Una giovane coppia in escursione sull'altopiano dei sette comuni nel tardo pomeriggio di ieri è stata raggiunta da una squadra del soccorso alpino di Asiago a richiedere l'intervento della squadra di specialisti dopo aver raccolto una telefonata di aiuto giunta dal telefono di uno dei due giovani in difficoltà. I carabinieri di Piene si trattava di una coppia di fidanzati giunti dalla provincia di Verona che si era concessa un pomeriggio sull'altopiano. Erano le 18 di ieri quando la spedizione del soccorso alpino è partita a bordo di una jeep per raggiungere la zona segnalata dopo che i due giovani di 25 e 27 anni avevano perso l'orientamento nel tragitto segnato dal sentiero Cai 845 che porta alle rocce dei castelloni di San Marco. Un dedalo di bivi e passaggi torpuosi anche tra grandi sassi. Una difficoltà aggiunta come spesso accade tra le pareti di roccia e i boschi di Asiago era legata alla difficoltà di trovare copertura telefonica. Una volta fissato il contatto con i soccorritori veronesi sono stati rintracciati e raggiunti non lontano da Malga Fossetta. Accompagnati a dove avevano posteggiato l'auto sono rientrati autonomamente a casa.